Non è vero ma noi a Foggia facciamo letteralmente schifo perché marciamo tantissimo sull'RCA, sulle pratiche assicurative mia mamma paga 600 euro ogni 6 mesi da assicurazione e la te ne manca una madre Così, è vero Signor Lino? Signor Lino mi manda Maria Signor Lino? Signor Lino è la prima volta che lei fa un incidente un sinistro? Sorrisse, sì Signor Lino è vero che lei ha fatto 36 colpi di frusta nell'ultimo anno? Ma a dire la verità è un 39, poi quel passaggio del carico 3 c'è la domanda Ultima domanda Signor Lino vedo che lei ha... Vedo che lei è stato in coma due volte Cavolicchio A dire la verità non per farmi manto, non per farmi manto Però una volta sono anche morto E proprio lì abbiamo preso i soldi grandi e mi torno a casa ammarchemente di sapere Pio Amedeo E questo è un spettacolo che portate anche al nord Sì, tu naturalmente ti chiederai come facciamo a portare questo spettacolo al nord Esatto, è le reazioni del pub Sì, solo il titolo è lo stesso No, portiamo alcuni pezzi di questo spettacolo anche al nord e togliamo l'italianziano L'italianziano, però alla fine si capisce E' uguale, qui anzi per... Ma sono tutti meridionali L'italianziano Quattordici gennaio si riprende con le Iene Sì, sì, quattordici gennaio Sì, c'era un po' di novità e non ve le stiamo qui a dire perché faremo anche dei personaggi Fai altri personaggi Altri personaggi che poi sono sempre gli stessi Sono gli ultrati Sono gli ultrati Sono fatto un cerchio di vedere che sono sbarcati a Mediasin Sempre un gigliore Ho fatto no, 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 no Io stasera a te non te la do perché chissà tu domani cosa penserai di me Chico è Fulvezzi Hai fatto bene, hai fatto bene Ma come te la dici? Ce l'ho dovevo dire a fuoco Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo Come te la dici? Ma te la dici a fuoco Sceglie alle sette per andare a liberco Spesso tante euro sono per gli alcoli Signor si sap 조심si Ci morevamo solo sfraccanare Che poi la spera si anche appalare Ci vorlevamo solo divertire Musciseo io alla bassaterja E risentirono le cervelle E me lo stomaco, si perceилоci Morita e l'anima dentro al domusio perché mi schiava rotto con il caffè e il paghete chi non canta io salto il palagusto e mi spaventano la non ti sento più forti non ti sento più forti di chi è? è fidanzato a tuo ammettilo ammettilo perchè questo menzano? non sono di perdone come una lada per essere tutti qua però è che è fidanzato no è un grosso nasciugo è un grosso nasciugo è un grosso nasciugo questo giubbotto lo mettevano all'assa chi cazza? cioè quando si è andato a scelero verde e blu tavo fece è un grosso nasciugo tanto che aveva scritto toccio il cartone uuu tanto è un passore scritta questo toccio e la tango l'insegno del tabacchino tanto lo so illuminante ce ne sono due o tre capito? beh tu le pagli il 20-25 era una mutante che quando la quando esci vanno incontro dovevi comprare sempre che hai fatto un investimento è come della casa per la mutante la metti proprio la mutante di punta che ti metti quando è sicuro che esce la situazione poi se non esce la situazione fa niente però l'hai indossata no tu te esce la situazione quando torni a casa se non è successo niente tu te la togli la annusi e se hai con la buona mi ti tocca a sé perché la valla si guasta va bene? ho finito 25 euro la mutante di quella ragazzi tra le spiessi va bene